Sì, finalmente, speriamo di far bene quest'anno, non vedo l'ora di fare bene con il Modena e con una squadra che punta a vincere, dai speriamo, sono carico, siamo carichi per sabato e speriamo di iniziare bene. Sì, mi sono messo a disposizione del mister, mi ha guardato, mi ha valutato ed era contento, è contento, io devo sempre dare di più ogni allenamento perché la concorrenza, il livello è alto quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Spero di diventarlo il prima possibile anche perché comunque ho 24 anni quindi c'è bisogno un attimo di alzare l'asticella, di cambiare sotto certi atteggiamenti e lo sto facendo nel migliore dei modi. No, che compagni è molto bello, li ho conosciuti subito, sono oltre che giocatori forti sono tutti, soprattutto anche quelli più grandi, sono molto bravi in campo e fuori, ti aiutano, col mister pure, un bel rapporto, se mi deve dire qualcosa me la dice, se io ho qualche dubbio comunque è uno che dialoga, che non si fa problemi, comunque l'esperienza un pochino c'è lì, però bene dai. Sì no, li ringrazio, li conosco bene, so che ci tengono e ci tengo anche io a fare bene perché devo comunque ricambiare questo affetto in un modo o nell'altro. Assolutamente sì, ogni partita è fatta per vincere, dobbiamo vincere tutte le partite, che sia Coppa Italia o campionato e partire col piede giusto è importantissimo. Grazie a tutti.